Buonasera, siamo qui dall'Etna Comics, buonasera, Tania e abbiamo qui con noi Fabrizio Marzotta. Allora Fabri, cosa ci puoi dire? È una bellissima emozione stare qui, le tue prime impressioni a caldo? Caldo è la parola giusta perché fa molto caldo, nonostante l'aria condizionata che è imperversa, però insomma siamo a giugno che fa caldo ed è giusto che sia così perché è bello il caldo, la vita dell'estate, del divertimento e qui si diventa qui a Etna Comics, è bellissimo. Sono già 4 anni che vengo e addirittura adesso faccio parte dello staff di Etna Comics e sono veramente orgoglioso e fiero per cui delle migliori mostre di fumetti, di manifestazioni sul fumetto d'Italia, un'organizzazione perfetta. E allora insomma, bene bene, i tuoi programmi, se per oggi che per domani, il mio programma principale quotidianamente è levare questo fastidiosissimo braccialetto. Come si fa? È semplicissimo. Se voi volete munirvi di acqua e sapone, strofinate un po' il sapone sul colso e va là magicamente il braccialetto fastidiosissimo, si toglie e poi lo rimettete. Ah bene bene, questo è un consiglio che dai tutta l'intervista e guarda, come sempre, ovviamente in qualsiasi tua intervista fai una piccolissima dimostrazione di ovviamente chi sei e chi hai dato voce, no? Cioè fare un saluto da parte di, che ne so, di Pollon. Ehi salve a tutti, ma chi è questo bambino così bello e così carino? Eros, il dio dell'amore. Bene, un saluto dal nostro Clastic Clown. Ehi, ho appena doppiato la venticinquesima stagione dei Simpson. E terminiamo benissimo con il nostro adorato Puffo Tontolone. Quanta gente, ma dove mi trovo? Non capisco, che è di Puffo! Bene, bene, allora un saluto a tutti i fan delle Telecomics e da parte di Fabrizio Mazzotta. Ciao a tutti e grazie per seguirmi con Space Food, insomma, grazie. Grazie. Ecco, grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.